Non è che sei tu mia madre per caso Francis sei mia madre Sei mia madre Sei tu mia madre Albert Sei tu mia madre Ronaldo Junior questo è un uomo Ciccio Gamer sei tu mia madre Sei tu mia madre No raga non mi stanno a cagare Sei tu mia madre E' questa oh Non l'ha mai vista Questa qui E' la vera mamma di Ronaldo Junior Un modo per poter salutare nostra madre Che non abbiamo visto da tre anni Col colpo segreto mamma Papà sei un infame perché hai lasciato la mamma Ciao pagliacce e pagliacce Qua è Omega E benvenuti tutti quanti in questo nuovo video Del GTA V Mod vita reale Da calciatore Dai ragazzi se mi chiamai così Da calciatore e da bambino E' la stessa cosa Anche perché questo video E' un video un po' diverso rispetto al solito Perché è un video rispetto diverso al solito Perché ragazzi in un video precedente Avevamo visto le ragazze segrete Che Cristiano Ronaldo aveva avuto Prima di Jasmine e di Melissa Che tra l'altro Oggi vi ho preparato un sondaggio sul canale Quindi ragazzi Aspetta a voi andarmi a dire adesso Se volete che le cose tornino come una volta Quindi Aspetta solitamente andare a vedere La sezione community Il sondaggio che vi ho preparato Quindi ragazzi In questo video Ronaldo Junior Forse conoscerà la sua vera madre Vedremo le origini della mamma di Ronaldo Junior Come è successo tutto Perché ragazzi Sapete che Ronaldo Junior La sua vera madre Non l'ha mai conosciuta Quindi sarà forse qualcosa di emozionante per lui Anche per noi Quindi mi raccomando Spolliciate il video Iscrivetevi se ancora non l'avete fatto Perché Vi ringrazio molto Se supportate Prima di questo video Ragazzi Vi incazzate Se non vi saluto Io vi capisco Perché potete essere salutati tutti Saluto Giuliano 4150 Che mi scrive Ciao Omega Mi saluti Faccio il barbone Ma come faccio il barbone Nooo No dai Mi dispiace Vabbè insomma Ti saluto lo stesso Anche se stai guardando questo video per strada Ti saluto comunque È bello anche per te così E saluto anche Samuele Cucchiara 005 Che mi scrive Omega Sei troppo swag Mi saluti No non mi riesce bene oggi Vabbè insomma Comunque Grazie Samuele E ti saluto Invece ragazzi Vi ricordo che Se anche voi potete essere salutati In tutti i prossimi video Vedere gli spoiler Dei prossimi video E anche E parlare con me in direct Potete seguirmi su Instagram Che lo trovate qui in descrizione Passateci due secondi Mi raccomando Sapete che vi aspetto Quindi ci mettete solo pochi secondi Adesso Se no No Se no Non possiamo continuare col video No tranquilli Non si è bloccato il video Sì io che sto zitto Bene ragazzi Eccoci qui Come tutte le domeniche pomeriggio Che si possono rispettare Anche se è pomeriggio Sì Sono quasi le 5 Quindi E anche quasi Sera diciamo Vabbè Comunque Sono qui ragazzi Al parco Con i nostri amici Che i nostri amici Sono lì a parlare Per conto loro Dice Vuoi dire Tomega Perché sei da solo Come un cane qui Romando Junior Sì ragazzi Perché Romando Junior Finalmente Ha raggiunto la maturità E ha deciso Di non fare mai più Una pazzia Dedicandosi solamente Alla cristianità Alla povertà E Vabbè Dai si vede Che sto dicendo Una merdata No ragazzi Siamo qui perché Stiamo pensando A nostra madre Ora sono anche sceso Perché da quando Nostro padre Ci ha parlato Della nostra vera madre Perché ragazzi Vi ho già spiegato Che Romando Junior Ha la madre Insomma Quella originale Da dove Genetica Da dove cito Che purtroppo Non l'ha mai conosciuto E quindi ragazzi Sono disperato Voglio saperne di più Voglio tornare immediatamente A casa E chiedere al papà Ehi Non è che sei tu Mia madre per caso No Romando Junior Ma che cazzino Vande fai Non può essere La tua madre Francis Sei mia madre Sei mia madre Sei tu mia madre Albert Sei tu mia madre Oddio ragazzi Penso che i miei amici Mi stanno prendo per pazzo Ragazzi Datemi mia madre Dov'è mia madre Porca miseria Ok Romando Junior Penso che Stiamo dando un po' di matto Davanti ai nostri amici Scusate ragazzi Ma ho seri problemi unitari Sto avendo tanta povertà Scusate Scusate Vabbè ragazzi Allora io Devo cercare Mia madre disperatamente Da qualche parte Insomma ci dovrà pure essere Mamma da qualche parte Papà mi ha detto che Vive ancora a Los Santos Ragazzi Cercheremo in tutti i palazzi Della città Finché non trovo mia madre Ragazzi Forse lei Sei tu mia madre Oddio Junior Questo è un uomo Sei tu mia madre per caso Sto spaventata Mamma È lei È lei ragazzi È nostra madre Mamma sei tu Mamma Mamma No Ok ragazzi Nostra madre riconoscerebbe Il nostro colpo segreto Mamma Sei tu Ragazzi ci stai evitando Mamma No ragazzi Non è ben utile Che continuiamo a disturbarlo Non è nostra madre Ecco sta pure scappando Ok ragazzi Forse posso chiedere a queste persone Se non ho visto mia madre Ciao ragazzi Sei tu mia madre per caso No questo è un uomo Sono tutti uomini Avete visto mia madre Oddio Ragazzi Sono incapace Non è successo Guardate i bulli No Io devo solo cercare mia madre Aiuto 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 Ragazzi Dei bulli Mi vogliono picchiare Ecco ci hanno già denunciato Forse sono Forse È questo Scusami Signore Signore obeso Ciccio gamer Sei tu mia madre Ragazzi Questo sottomiglia Ciccio gamer Porca miseria Però Ciccio gamer Almeno non fumo Vabbè dai scusa Non sei tu mia madre Sei un uomo Ragazzi Non mi resta altro Che tornare a casa E provare a chiedere A papà Se magari può darci Delle informazioni di più Perché Penso che tutti voi Vogliate conoscere La vera mamma Di Ronaldo Junior Sapere Quello che è successo Ragazzi Mentre vi sto facendo questo video Vi informo Che non ho fatto colazione E mi fa malissimo la pancia Informazioni di servizio No perché Ogni tanto è bello Dare delle informazioni di servizio Tipo questa Quindi sentite strani rumori Tipo E la mia pancia Che è brontola Perché non ho mangiato niente Ragazzi Voglio sapere di più Su nostra madre Dove si trova Perché a quanto pare Ronaldo Junior si è convita Proprio che La voglia trovare A tutti i votuti I costi E beh Non ha Non ha torti Voglio dire Voglio dire Se voi non avete ben conosciuto Vostra madre E poi La volete conoscere Mi sembra normale Siamo tornati a casa Ho fatto Il più velocemente possibile Perché Voglio parlare con papà Di questa cosa La domenica Non ci sono mai guardie Però la domenica Ragazzi Guarda a caso Papà fa sempre venire Delle ragazze Qui in casa Infatti Ecco Ora non lo vedo più Infatti Guardate ragazzi Lì sta con una ragazza A parlare Però ragazzi Una ragazza nuova C'è una donna nuova Che non ho mai visto Vabbè Comunque ragazzi Forse posso chiedere loro Scusate Sei tu mia madre? Sei tu mia madre? No ragazzi Non mi stanno a cagare Sei tu mia madre? Oh Sei tu mia madre? No ragazzi Non sono queste mia madre Non so chi siano queste qui Sinceramente Vengono quotidianamente Ok ragazzi Mi dispiace interrompere papà Mentre sta parlando Con questa ragazza qui Ma non so cosa sta succedendo Ehi papà Volevo chiederti una cosa Ma mi fai conoscere La mia vera madre Per favore Scusi signora Vorrei parlare un attimo Con mio padre Se è possibile Più sotto al naso La persona che sta cercando Ma ancora non se ne è reso conto Scusa papà Mi spieghi Che Allora ragazzi Non sto capendo niente Quando ho detto Che voglio conoscere La mia vera madre Ho detto di spostarsi A questa signorina qui Nostro padre Ragazzi Sta zitto E questo qua È cominciato a saltare Ragazzi Ma non sarà che No è impossibile È troppo giovane Papà Senti Voglio parlarti un attimo Di sta cosa Ragazzi Che sono Ronaldo È troppo silenzioso La smetti di saltare tu Ma perché salti Oh mio dio ragazzi Notizione del giorno Ronaldo mi sta dicendo Che siamo venuti A momento sbagliato Perché Stavamo parlando Con Samantha Che è la nostra Vera madre Aspetta 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 Un momento Questa qui È la vera mamma Di Ronaldo Junior Ragazzi La facevo più vecchia Eppure Ecco perché Forse è felice Di conoscere Il suo vero figlio Ho girato Tutta lo santo Sporca miseria ragazzi Ho fatto dal ponte lì Fino a sto laghetto Qui a cercare mamma E poi Cioè è sempre stata qui ragazzi È venuta qui Mamma ma sei veramente tu Ragazzi Cristiano Ronaldo Sta dicendo Che non ho scherzo Ragazzi Io stai avendo La febbre Ronaldo Junior Ragazzi Non ci credo C'è solo un modo Per poter salutare La nostra madre Che non abbiamo visto Da tre anni Col colpo segreto Mamma No Oddio ragazzi Mamma Scusa Non ti incazzare Oddio Ma la buttavo giù Ragazzi La buttavo giù Mamma Sono tuo figlio Sì Scherzo Una festeggio Priglio Anche se ragazzi I festeggiamenti Non so quanto dureranno Perché Sapete che Ronaldo E Samantha Che sarebbe la vera mamma Di Ronaldo Junior Non sono più insieme Da non so quanto tempo Ormai Cioè Mio padre ha avuto Diverse donne Papà Perché hai lasciato Mia madre Papà sei un infame Perché hai lasciato La mamma Perché l'hai lasciata Brutto infame Sei un infedele Sì mamma Lo so è normale Io papà ci picchiamo sempre Cosa succede adesso Raccontatevi tutto Ragazzi Non siete curiosi Sapete che cosa è successo Perché Samantha La vera mamma Di Ronaldo Junior Non vive con Ronaldo Per sapere questo Dobbiamo tornare Indietro Nel tempo Bene ragazzi Come vedete Siamo tornati Indietro nel tempo A tanti anni fa Prima che Ronaldo Junior Nascesse E questa parte La possono capire Solamente Chi ha visto Il video Che si chiama Le ragazze segrete Di Cristiano Ronaldo Le ragazze segrete Del suo passato Che se non trovate Ragazzi Trovate a fine video Nelle schede Quindi vi comparirà A schermo Nel video Alla fine di questo video Cosa successe? Successe che Quella sera Noi bevemmo troppo E successe che Sì insomma Come lo devo dire Che Ronaldo Ha messo in cinta Samantha Senza che se ne accorgesse Perché sia lei Che lui Erano ubriachi Anche ragazzi Come potete vedere Gli occhi di Samantha Sono tra l'altro Chiusi Perché svenne E andò in coma Ecco Successe un casino Della madonna Infatti Diciamo che Ronaldo Junior Ragazzi È nato da un bordello Di un casino più assurdo Quindi diciamo Che all'epoca Era giovane Per avere Ronaldo Junior Era molto molto giovane Anche ragazzi Quando i medici Mi chiesero Che cosa successe Perché ragazzi Ovviamente io gli dissi Che ero Ronaldo I medici ragazzi Si incazzarono un casino E dissero Che ho fatto ubriacare Una ragazza così giovane Ragazzi Io diedi una festa Quante persone si ubriacarono Tantissime Io ragazzi Non mi ubriacai tanto Perché il giorno dopo Avevo gli allenamenti Però come vedete ragazzi La mamma di Ronaldo Junior Era messa Veramente Veramente male Una cosa bella Arriva adesso Perché se pensate Che sia finita qui ragazzi Dovetti subirmi Pure la ramanzina Dei genitori Perché sì Questa è la mamma di Samantha E questo è il padre Che tra l'altro Quando gli abbiamo detto Che Samantha era incinta Ragazzi Il padre è iniziato a dire Tu sei un infame Tu devi pagare i soldi A non la mia famiglia Ragazzi Ha iniziato A farneticare Questo tipo qui Al che è quasi scattata la lista Ma per rispetto di Samantha Ragazzi Era in come Era svenuta Quindi ragazzi Successe una specie di mega rissa Tra il dottore E il padre di Samantha Che quello dovrebbe essere In realtà ragazzi Il nonno di Ronaldo Junior E quindi ragazzi Ronaldo iniziò a dire Che se loro non volevano Il bambino Poteva prendersi cura Del bambino Crasciarlo E farlo diventare Il prossimo CR7 E il pischeletto dark Infatti così è diventato Sotto ricatto Del padre di Samantha Noi temmo i soldi Ronaldo Junior Nacque E io non vidi più Samantha Fino al giorno di oggi Che ragazzi Si è ripresentata E sì ragazzi È stata una vera schifezza Quindi come vedete La colpa Non è né di Ronaldo Né di Samantha Ma dei suoi genitori Ed è il dottore infame Io lo dovevo tirare un pugno Scusate raga Ma quando te parti Te parti La storia è andata così Abbiamo appena finito Di spiegare a Ronaldo Junior E Ronaldo Junior Sembra un po' Basito ovviamente Perché ragazzi Un bambino abbandonato Sto padre ma cresce E poi si scopre Che il nonno è infame Il medico è infame Sì ragazzi Purtroppo la storia è andata così E Oddio Oh mio dio No no Ragazzi Questa è una cospirazione Cosa ci fa Jasmine In casa mia Jasmine Ma non ti hanno detto Che si suona Prima di entrare Porca miseria Sono trovata Sempre tutte le donne Della vita Di Ronaldo Incrociate Jasmine Belen Melissa Samantha Ma non lo so Tutte quante Adesso chi glielo spiega A Jasmine Che cosa stiamo facendo Con questa ragazza qui E a Samantha Chi gli spiega Chi è Jasmine Si stanno squadrando E non sono Sguardi positivi Quindi ragazzi Adesso aspetta a voi Decidere Samantha La vera mamma Di Ronaldo Junior O Jasmine Se il video vi è piaciuto Un bel pollicione in su Iscrivetevi al canale E commentate Con la vostra Anzi Con chi vorreste Che Ronaldo tornasse E con chi vorreste Che Insomma La mamma di Ronaldo Junior Chi deve essere Adesso ragazzi Perché le cose Si stanno un po' Complicando Non pensavo Che loro due Si trovassero qui Vi ricordo Che in descrizione Trovate le maglie Ufficiali Ufficiali Uscite poco tempo fa Fino al primo aprile Di Ronaldo E Ronaldo Junior Trovate in descrizione Quindi ragazzi Disponibili Fino a Pasqua E sempre in descrizione Se volete essere salutati E tutti i prossimi Video da CR7 Come lui che va Qui su Instagram E mi va a seguire Mi raccomando ragazzi Link in descrizione Passateci due minuti Sapete che vi aspetto Bene Per questo video è tutto Non pensavo le cose Si complicassero così Che un giorno Sarebbero arrivate A conoscersi Persino Jasmine E Samantha La decisione Aspetta voi ragazzi Poi o me che raga Spero il video vi sia piaciuto E se beccamo Al prossimo video Ciao 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 Ciao